Pescara, la città più grande d'Abruzzo, si prepara al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del sindaco. Il centrodestra si presenta spaccato con due candidati, da una parte il sindaco uscente Luigi Albo Remascia che Forza Italia ha voluto ricandidare senza accettare le primarie e dall'altra Guerino Testa, presidente uscente della provincia pescarese che ha sollecitato le primarie al tavolo di centrodestra e avendo ottenuto una risposta negativa ha deciso comunque di candidarsi col nuovo centrodemocratico. Ci sono altri esponenti o ex esponenti del comune che aspirano a fare il sindaco, Vincenzo Serraiocco, ex assessore della giunta Mascia e anche Roberto De Camillis, presidente uscente del Consiglio Comunale. Tra i nove candidati ci sono anche Marco Alessandrini, già candidato sindaco nel 2009 che in questi anni ha rinunciato al ruolo di capogruppo del PD, appoggiato da sei liste. Enrica Sabatini del Movimento 5 Stelle, nuova nella politica. Alessio Di Carlo che fonda la sua battaglia sulla unificazione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Domenica ci sarà anche il referendum per i residenti di queste tre città. E poi ancora Florio Corneli, anche lui uscente da Palazzo di Città, come consigliere del PD, si candida con la lista Pescara-Colori e Loredana Di Paola, nota ambientalista, candidata a sindaco con la lista Altra Città. Vista la parcellizzazione delle liste, dalle urne si profila un ballottaggio che sembra ormai certo. Sulle alleanze in vista dell'8 giugno è però ancora tutto da vedere, specie nelle fila del centrodestra. Grazie a tutti.